Veramente Caspar tu ti sei riferito anche a me, ad Alba e ad Alessia, non ti sei riferito soltanto a Marina La Rosa, tu ci hai nominato, ci hai citato. Alda, con tutto rispetto ho detto ad Alda, ad Alessia e ad Alba, quindi come dire, non è che ci stanno dentro voi, con tutto rispetto posso dirti che il tuo atteggiamento è tipico della mente debole. La sua opinione, scusate, è la sua opinione, lui non si fida delle donne, si fida solo degli uomini, certo che te la faccio dire, Alba trovo un po' ridicolo nel 2019, uno possa non fidarsi delle donne, ma uno non si dovrebbe fidare delle persone in generale, perché non si fida di colture, non delle donne, non è una questione di secoli, di anni, di anni, di millennio, è una questione che io non mi fido, io Caspar non mi fido, possono fidarmi? Caspar, ma che volete, nella vita sono stavanti di soltanto, e non è che devo fare ragione adesso ad Alba, ad Alda, che sia. Per favore, allora vorrei dirti questo, se non ti fidi delle donne in generale, questo è un problema tuo, se non ti fidi di me, fai benissimo. Grazie. Grazie.